9 orari per la Zeratl ripartiti a seconda delle stagioni con pedonalizzazione completa del centro storico nei periodi più forti dell'anno. E' quando stato stabilito questa mattina nel secondo incontro promosso dall'amministrazione comunale che ha chiamato a raccolta le esercenti, le associazioni del territorio e portatori di interesse per studiare un piano di riqualificazione del salotto della città. Si punta a una Zeratl stagionale con orari che saranno rimodulati, ha spiegato il consigliere comunale Valerio Gianandrea. Dal 1 ottobre al 31 maggio, periodo invernale primaverile, la chiusura del centro storico rispettereà i seguenti orari 11.13.18.21 e nei weekend dalle ore 18 del sabato fino alle 21 della domenica. Dal 1 giugno al 30 settembre, periodo estivo, la Zeratl seguirà gli orari finora vigenti 10.30.13.17.30 luna, ma nei weekend partirà dalle 17.30 del venerdì fino all'una del lunedì. La rimodulazione della pedonalizzazione prevede anche la chiusura completa del centro storico durante le feste natalizie dal 24 dicembre a 7 gennaio e in quelle pasquali dalle ore 18 del mercoledì santo fino alle ore 21 del lunedì dell'Angelo. Parcheggi aboliti in piazza 20 settembre, piazza Minzoni, zona San Rocco, piazza del Carmine, viale Mazzara, parcheggio a pagamento in viale Roosevelt e in via Denino, quando non è in vigore la Zeratl. Alla rimodulazione degli orari della pedonalizzazione e l'abolizione dei parcheggi seguirà una rideterminazione degli orari di carico e scarico delle merci, delle licenze dei taxi e dell'introduzione di un nuovo bus che passerà per il centro storico. Le proposte raccolte nell'incontro di questa mattina saranno inviare a tutte le associazioni di categoria entro lunedì, aggiunge Gianna Andrea, per la fine della prossima settimana potrà arrivare l'accordo. Se i tempi saranno rispettati i nuovi orari della Zeratl potranno entrare in vigore da dicembre, sembrerebbe invece che partire a breve la pedonalizzazione del centro storico nel tratto compreso da piazza 20 settembre a piazza del Carmine.